Torna a svegliarsi l'Etna con una nuova attività vulcanica dopo quasi tre mesi e mezzo di riposo. Nella notte tra il 11 e il 12 maggio le reti di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato intorno alle 5.11 una ripresa dell'attività stromboliana, attività che è continuata fino alle 7 quando è stata registrata una collata di lava sommitale. Alle 12 invece si è fatto sentire anche il nuovo cratere di sud-est. Le emissioni di ceneri proseguono ancora adesso regalando ai cittadini etnei uno spettacolo unico. Boati e tremori tengono con il fiato sospeso gli abitanti, incerti tra l'essere meravigliati e spaventati. Intanto, sulla base delle osservazioni visive e strumentali, il Centro Funzione Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità elevata per l'area sommitale del vulcano e di criticità orinaria per le aree del medio versante, pedemontana e urbana. Le emissioni di ceneri però non sono state ritenute rilevanti. Infatti l'aeroporto Fontana Rossa è rimasto operativo. Nel frattempo, prosegue l'attività di vigilanza attraverso i centri che si occupano del monitoraggio e della sorveglianza dei vulcani italiani. Una delle recenti e memorabili erozioni dell'Etna risale allo scorso dicembre quando, proprio alla fine dell'anno, il vulcano aveva salutato il 2014 con uno spettacolo di fuoco. Cenere e grossi lapilli erano caduti su giarre, riposto e altre zone limitrofe. A gennaio, invece, aveva cominciato la sua attività il cratere Voragine. Anche in quel caso, le emissioni di ceneri non erano state rilevanti.